ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo video vorrei parlarvi del team hub plus e in più vorrei parlarvi della mia esperienza con questo nuovo modem spiegando praticamente le varie problematiche che ho riscontrato quindi valutando i pro e i contro di questo dispositivo quindi come dicevo parleremo del team hub plus della technicolor ovvero il dga 4331 ma entriamo nei dettagli allora prima di entrare nei dettagli c'è da fare una piccola premessa allora questa va beh l'architettura che attualmente sul territorio nazionale quindi la possibilità di connettersi a internet con varie tecnologie io praticamente ero prima con una normale adsl adsl che acronimo di asymmetric digital subscriber line praticamente questa tecnologia è una tecnologia interamente su doppino di rame quindi dalla centrale all'armario fino all'interno del nostro appartamento è con il classico doppino di rame ovviamente ben capirete che questa tecnologia non porta ad avere una buona banda quindi comunque non si riesce a navigare molto velocemente comunque non avere una quantità di dati elevata infatti si avevano orientativamente comunque si hanno con questa tecnologia una banda dai 20 ai 7 megabit 7 megabit in upload 20 megabit per secondo in download praticamente per poter visto che comunque attualmente sono con il canale e quindi comunque caricare un video era diventato davvero molto 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 faticoso nel senso che per caricare un video ci mettevo davvero anche delle ore quindi ho pensato di effettuare il cambio praticamente attualmente nella zona in cui mi trovo io la possibilità di poter praticamente ho fatto un salto e sono passato ad una ft tc che non è altro che l'acronimo di fiber to the cabinet quindi praticamente ho fatto un misto rame una fibra misto rame quindi ho valutato l'opzione di fare una nuova installazione fibra rame praticamente questa tecnologia parte dalla centrale arriva fino al primo mobile vicino nella zona di riferimento con la fibra e poi smista ovviamente la connessione con il doppino di rame all'interno della casa quindi non c'è la necessità di sostituire nessun cavetto quindi si riesce a portare la DSL con lo stesso doppino telefonico che si aveva già in casa ovviamente capirete che si ha una larghezza di banda molto molto più importante quindi comunque infatti si riesce ad avere connessioni a molto più performanti perché comunque si hanno bande comunque di 30 e 100 megabit quindi fino a 30 megabit in upload e 100 in download vabbè questa qui attualmente nelle mie zone me la sogno come si suol dire però comunque ho fatto questo passaggio qui ovviamente facendo questo passaggio qui il mio vecchio modem la mia vecchia tecnologia anche del telefono di casa è cambiata quindi quando è venuto il tecnico ad installare la nuova diciamo a portarmi il nuovo modem mi ha portato il Team Hub Plus e ora ne parleremo un attimino vediamo i contro, vediamo un attimino come si comporta di cosa è composto e cosa permette di fare e in più vi spiegherò le problematiche purtroppo che ho riscontrato io e le eventuali soluzioni per poter risolvere quel problema che ho riscontrato io e magari potreste anche riscontrare voi allora partiamo col dire che il modem del Team Hub Plus della Technicolor consente il collegamento all'internet sfruttando le tecnologie di collegamento ADSL, VDSL e fibra ottica quindi permette varie connessioni è compatibile con le offerte 100 MB e 200 MB vabbè questo qui dipende anche dall'operatore è dotato di porte Ethernet tutte di tecnologia Gigabit quindi molto veloci sono porte da 1 Gigabit ciascuna se non erro poi ha una porta WAN per collegare la terminazione ottica esterna fornita con le linee FTTH ovvero quelle tutte fibra praticamente sarebbero queste qua dove dalla centrale parte e arriva direttamente all'interno della casa direttamente con il cavo fibra quindi permette di effettuare queste connessioni in quanto c'è una predisposizione ma questa la vedremo più avanti infatti tale porta in scenari di utilizzo diversi dal collegamento FTTH con la terminazione ottica esterna può funzionare come un'ulteriore porta LAN con una semplice configurazione vabbè questa qui la vedremo dopo che cos'è quindi abbiamo detto che ha tre porte LAN per consentire il collegamento di un'area TLAN alla velocità di 1 Gigabit poi una porta SFP per collegare il modulo ottico cioè la terminazione ottica integrata fornito sulla linea FTTH in alternativa alla terminazione ottica esterna ma queste cose le vedremo più nel dettaglio fra poco entriamo quindi nei dettagli il TMAB Plus come potete vedere è questo qui e questo nella foto qua questo è il riquadro della parte frontale quindi tutti i led che sono presenti nella parte frontale del dispositivo e praticamente sono evidenziati due, quattro, sei, sette led che vedremo velocemente praticamente il led d'accensione questo di presenza linea il led di presenza internet diciamo quindi di web poi abbiamo le connessioni LAN la presenza del Wi-Fi la tecnologia WPS che praticamente non è altro che allora utente registrato correttamente tramite all'ora questa tecnologia permette di identificarsi comunque permette ad una periferica di connettersi subito senza le credenziali e ora vi spiegherò fra poco come e in più permette di avere dei telefoni collegati dietro la porta praticamente del modem ma queste cose le vedremo nella slide successiva quindi ci sono vari led che identificano varie caratteristiche e varie funzionalità quindi abbiamo il il Wi-Fi l'accensione linea DSL quindi presenza linea poi abbiamo vabbè il web quindi presenza di internet connessione internet red LAN Wi-Fi WPS e voce questa è la parte praticamente quelli erano dei led quindi nella parte frontale non ci sono pulsanti ma soltanto led di segnalazione invece nella parte laterale sono presenti scusate due pulsanti e un vano di accesso allora c'è il pulsante di attivazione funzione WPS quindi premendo su questo tastino praticamente il modem attiva la funzionalità WPS che permette praticamente di tramite uno smartphone o comunque qualsiasi periferica nelle vicinanze di autenticarsi con praticamente senza accedere con i dati quindi con la password quindi avere una connessione molto più veloce permette l'attivazione e la disattivazione manuale del Wi-Fi quindi con questo tastino possiamo spegnere e accendere il Wi-Fi pur mantenendo acceso il dispositivo in più questa porta qui questo è un piccolo vano in cui si toglie e si va a mettere la terminazione diretta del cavo di fibra ottica quindi nel caso in cui si ha una FTTH quindi arriva direttamente il nostro cavo di fibra ottica all'interno della casa viene collegato in questa praticamente in questo vano qua poi entriamo ancora nei dettagli questa è la parte retrostante praticamente come potete vedere qui sono tutte le connessioni adesso le vedremo nel dettaglio quindi la parte posteriore si presenta in questo modo qua abbiamo l'accensione del modem quindi un tastino di on off abbiamo un pulsante di reset per i valori di fabbrica questo qui si deve pigiare con qualcosa con uno spillo o qualcosa quindi premendo qui resetteremo tutte le impostazioni ai dati di fabbrica poi sono presenti praticamente il connettore di alimentazione ovviamente questo se non erro anche un alimentatore 12 volt poi abbiamo due due porte telefoniche tel 1 e tel 2 praticamente qui vengono collegati i nostri dispositivi telefonici infatti chi ha una rete fissa di casa purtroppo viene un pochino stravolta perché tutti i terminali tutti i telefoni non funzioneranno più perché andranno connesse ognuno nella parte retrostante purtroppo qui c'è solo la predisposizione per due telefoni quindi o comunque una stampante un fax o comunque un post un qualcosa che ha bisogno di linea telefonica quindi la normale linea non funzionerà più e questo ovviamente è stato uno dei primi problemi che ho riscontrato perché comunque io non ci avevo proprio pensato a questa cosa quando ho richiesto l'offerta fibra purtroppo non mi è stato nemmeno detto però ho riscontrato il fatto che ho dovuto fare delle modifiche all'impianto che ora vedremo fra poco allora poi c'è la porta DSL vabbè qui arriva direttamente la linea telefonica e verrà inserito lo spinotto RG11 in questa porta qui senza filtro quindi verranno rimossi all'interno dell'appartamento tutti i filtri perché non si ha più la necessità di inserire i filtri poi ci sono le quattro porte Ethernet di cui una configurabile successivamente come porta Ethernet perché questa è predisposta per eventualmente connettere gli ONT che vedremo fra poco sono le terminazioni che non vengono praticamente quando non si ha direttamente il filo all'interno della casa in fibra ottica vengono installate delle piccole centraline e dove arriva poi la terminazione del cavo di fibra ottica e successivamente per potersi connettere ad alta velocità bisogna connettersi con la rete LAN quindi quel cavetto verrà collegato su questa porta qua LAN 4 WAN se non si usa questa funzionalità può essere utilizzata come una normale LAN quindi va bene le quattro porte Ethernet per il collegamento alla LAN cablata la porta Ethernet 4 Ethernet 4 può essere utilizzata per il collegamento a una terminazione ottica esterna in tecnologia FTTH ma questa la vedremo fra poco allora qui un semplice schema quindi vi sarà sostituita nel momento in cui arriveranno i tecnici la nuova presa quindi si avrà l'installazione della nuova presa questa qui direttamente verrà collegata alla porta DSL quindi questa questa qui sarebbe questa quindi con un cavetto con un doppino verrà collegata direttamente dietro al modem senza filtri come vedete qui vengono collegati i nostri telefoni le nostre apparecchiature e qui la normale alimentazione di rete 230 volt in corrente alternata con il suo trasformatore qua evidenza ovviamente una connessione di rete cablata le quattro porte l'hanno ovviamente predisposte per connettere quattro dispositivi in rete cablata non abbiamo non vi ho accennato prima praticamente il fatto che questo dispositivo permette di per mezzo di due USB di cui una versione 3 quindi molto più veloce di connettere degli hard disk ad esempio oppure delle pendrive e poter poi accedere ai dati perché comunque vengono quelle penette o quegli hard disk condivisi in rete quindi io poi posso tranquillamente accedere a quei dati per mezzo del mio teamab plus però all'interno della rete ma questo lo vedremo successivamente nelle configurazioni che faremo più avanti quindi eravamo arrivati qua questo è il caso in cui come vi dicevo prima viene installato un ONT quindi il modem teamab plus è dotato di una terminazione di rete ottica ONT integrata se il modem teamab plus viene connesso ad una rete con architettura FTTH tutta la rete della centrale alla casa dell'utente è realizzata in cavo in fibra ottica quindi quindi non è prevista l'installazione di UNT esterna allora cosa significa significa che se ci arriva direttamente il cavo all'interno dell'appartamento in fibra ottica verrà collegato in quel vano che abbiamo detto prima nel caso in cui invece ad esempio viene collegata esternamente al nostro appartamento quindi non arriva proprio all'interno della casa la fibra ottica ma esternamente magari al palazzo di solito vengono installati questi dispositivi qui quindi qua arriverà la terminazione della fibra ottica dalla cabina di derivazione poi noi successivamente con questo dispositivo all'interno della casa nelle vicinanze con un cavo ethernet come vedete andremo a collegarlo nella porta LAN 4 quindi sfrutteremo le potenzialità dell'FTTH per mezzo di questa porta qua nel momento in cui non abbiamo questa necessità quindi arriva direttamente il cavo di fibra ottica dentro casa possiamo configurare questa porta come una normale porta ethernet quindi sfruttare una porta a 1 gigabit allora adesso vorrei illustrarvi e analizzare la situazione prima e dopo l'installazione del team hub plus quindi vi farò vedere i pro e i contro di questo modem o almeno questo ovviamente per il mio parere personale le potenzialità che questo modem ha e le problematiche che ho riscontrato io quindi ovviamente è strettamente personale però sono delle cose che potreste riscontrare anche voi ecco perché ho voluto anche fare questo video e condividere in modo tale da eventualmente far sapere anche ad altri le eventuali problematiche che si possono trovare allora io prima di parlare nel dettaglio devo spiegarvi com'era la rete prima dell'installazione del team hub plus allora la mia rete era suddivisa piano terra primo piano la linea principale di telecom arrivava su una spina normale spina e diramava nel piano di terra nel primo praticamente nel piano terra quindi avevo qui il parallelo della prima spina con la seconda spina quindi un terminale lo avevo sulla spina piano terra e nel primo piano avevo un filtro dove dalla parte del telefono avevo un altro dispositivo in più con un altro doppino dalla parte del modem ADSL avevo praticamente il mio modem D-Link wifi quindi il mio modem router wifi ovviamente in tutta rete cablata avevo altre mi gestivo questo qui la rete cablata in più tutti i dispositivi all'interno del mio appartamento quindi i miei tablet i miei smartphone principalmente il computer dove io sto registrando che uso di solito per effettuare tutto e comunque il port praticamente il dispositivo che usa di più la connessione internet e purtroppo è stato qui che ho riscontrato dei problemi comunque adesso vi farò capire cosa mi è successo allora quindi la situazione prima dell'installazione era questa qui allora prima di tutto bisogna dire che questo Team Hub Plus ha una doppia interfaccia wifi una a 2,4 gigahertz e una a 5 gigahertz per una maggiore compatibilità questo molto punto interrogativo e poi vi spiego perché quindi per una maggiore compatibilità con tutti i dispositivi wifi su cui è attiva la funzionalità band steering questa funzionalità poi ve la spiegherò dopo che permette di ottenere sempre il massimo delle prestazioni possibili su ogni dispositivo a seconda del contesto utilizzato in più inoltre per ottenere il massimo dalla rete wifi questo modem dispone anche del nuovo standard wifi 6 ovvero l'802.11 AX sulla rete 2.4 e 5 gigahertz quindi lui riesce a sdoppiare segnale wifi in due frequenze quindi si ha la possibilità di avere connessione in 2,4 e 5 gigahertz come sapete il 2,4 è molto più penetrante all'interno dei muri ma ha una banda più bassa invece il 5 gigahertz è meno penetrante all'interno dei muri quindi praticamente ha problematiche di segnale praticamente se è più soggetto ad eventuali ostacoli quali potrebbero essere i muri o altre situazioni quindi se si è in prossimità del modem quindi nelle vicinanze si ha una connessione molto più veloce rispetto a 2,4 gigahertz però la problematica che si riscontra è che non riesce ad arrivare perfettamente diciamo in tutto l'intero appartamento cosa che magari si riesce con il 2,4 gigahertz però con una banda minore quindi questa è già una delle problematiche che si hanno con questo modem qua quindi uno cerca di sfruttare il 5 gigahertz come banda però magari all'interno di una stanza questo qui non riesce ad arrivare e quindi poi bisogna sfruttare il 2,4 se si ha questa impostazione all'interno del modem impostata cosa succede si avrà un'unica noi vedremo un unico seed quindi un'unica rete wifi e sarà il modem a gestire praticamente automaticamente qual è la frequenza migliore in quel determinato momento in cui noi siamo ad esempio in un angolo della stanza quindi se ipotizziamo che io sia in cucina e lì prende di più il 5 gigahertz lui con questa impostazione mi connetterà col 5 gigahertz magari io mi allontano vado in un'altra stanza dove il 5 gigahertz ha un segnale più basso quindi lui automaticamente mi farà connettere con il 2,4 quindi sarà lui a switchare la frequenza quindi noi non capiremo se siamo in 5 giga o in 2,4 gigahertz ma semplicemente vedremo una singola connessione e sarà lui a switchare il tutto nel caso in cui questa impostazione non è attivata noi vedremo due reti distinte e quindi potremo impostare una rete a 2,4 una rete a 5 gigahertz e mettere praticamente avere due reti distinte e con password differenti anche seed differente quindi questa è una delle potenzialità che permette questo modem qua quindi successivamente nel momento in cui ho installato il mio modem la mia situazione è questa primo problema riscontrato come avete visto prima io qui ho avuto l'installazione della nuova presa quindi qua ho dovuto già fare un taglio non ho potuto più derivare quindi non si fa io qui avevo il parallelo che mi derivava l'altra pesa purtroppo adesso ogni terminale va collegato nella parte retrostante del modem quindi qui ho dovuto fare un taglio una connessione portare un doppino telefonico fare una crimpatura o comunque una giuntura e collegarmi il piano terra dietro una porta tel ad esempio tel1 quindi ho dovuto fare già installare un cavo un nuovo doppino fare dei collegamenti e quindi collegarlo nella parte retrostante del modem quindi ho avuto un'aggiunta di cavo connessioni non volute e in più la problematica di non avere più il funzionamento dei miei dispositivi come una rete normale perché comunque a gestire adesso i telefoni sarà il modem quindi il telefono l'ho dovuto collegare nella porta tel1 il telefono del piano superiore alla porta tel2 e indistintivamente lui gestisce lui le due periferiche telefoniche il cavetto dsl con un doppino arriva direttamente alla porta dsl senza nessun filtro quindi primo problema ho dovuto fare delle modifiche all'impianto secondo problema il mio modem praticamente se è spento non mi permette di utilizzare i telefoni e questa è una cosa un pochino che mi ha dato fastidio perché non ci ho pensato in effetti è così perché purtroppo in fibra funziona così e quindi questo dispositivo che io prima spegnevo di notte lo devo tenere costantemente acceso quindi una problematica di ulteriore consumo di corrente ovviamente usura del dispositivo perché essendo sempre acceso sul riscalda e comunque la durata nel tempo diminuisce in più se voglio avere i dispositivi sempre funzionanti devo tenerlo acceso e devo prevedere poi in futuro un UPS perché nel momento in cui se ne va la corrente ad esempio all'interno della casa i miei dispositivi non funzionano io potrei magari avere bisogno e necessità di chiamare e ho il problema che i telefoni non funzionano e questa è una cosa per me un pochino importante quindi già dovrei comprare un UPS o comunque derivare da un UPS che ho già una presa predisposta per alimentare il modem quindi questo è un problema che ho riscontrato e che potrete riscontrare anche voi se avete comunque il telefono e la rete fissa poi se avete soltanto la predisposizione per la DSL non è un problema quindi cosa succede successivamente cosa ho fatto prima c'era impostata praticamente quella funzionalità band stealing quindi sono andato ad effettuare la configurazione e a provare a connettere le mie periferiche cosa è successo è successo che i dispositivi più recenti riuscivano tranquillamente a connettersi sia in 5G e in 2,4 tranquillamente perché io vedevo soltanto una rete wifi non distinguevo a che banda era vedevo il suo sit mi collegavo ed era tutto a posto anche se devo dire che con questo modem in alcuni punti essendo allo stesso punto in cui era prima il segnale sembra apparentemente più debole rispetto al mio modem che è un D-Link questo qua ora vi spiego cosa è questa configurazione quindi alcuni dispositivi si connettevano il mio vecchio PC di cui vi parlavo prima che è quello che fa più uso di internet perché è quello che uso io è il mio portatile che non è nelle vicinanze del modem quindi prima di tutto non posso farlo funzionare in rete cablata e io quindi mi connetto via wifi però cosa è successo che il mio dispositivo non rileva per nulla il SID quindi non rilevo per nulla la connessione e non sono riuscito a connettermi ho provato ad aggiornare i driver ho provato a distinguere poi ad eliminare quella impostazione di bendestirmi quindi ad avere praticamente la frequenza 2,4 e la frequenza 5 GHz quindi ad avere due reti distinte in modo tale che poter connettere ad esempio i dispositivi con il 5G ad esempio smartphone e altri dispositivi non compatibili con il 5 GHz con il 5 GHz con il 2,4 un altro mio portatile se è riuscito a connettere tranquillamente con il 2,4 ma questo qui che è quello che uso di più purtroppo ho riscontrato il problema di incompatibilità con il Wi-Fi non riesco a connettermi ovviamente con i 5 GHz me lo aspettavo perché questa è tecnologia 802.11 BGN quindi non è a 5 GHz però mi sarei aspettato almeno di vedere la frequenza a 2,4 non sono riuscito a connettermi con nessuna delle due frequenze quindi il problema è che via cavo non posso connetterlo perché via cavo tranquillamente si connette però in Wi-Fi purtroppo le altre periferiche sono bene o male riuscite a connetterle ma il mio vecchio PC o comunque il mio PC che uso di più non sono riuscito a connetterlo ripeto o le ho provate tutto ho cambiato i canali ho cambiato la frequenza ho sdoppiato le frequenze del segnale ho tolto l'impostazione ben destino ho aggiornato i driver le ho provate davvero in tutti i modi ma questo dispositivo non si connette quindi è stato per me un problema allora cosa avevo pensato avevo pensato di acquistare un un ricevitore 5 gigahertz usb quindi ovviare il problema o comunque provare a risolvere questo problema comprando questo dispositivo però leggendo un pochino le le recensioni su amazon o comunque su altri su altri siti questi dispositivi non sono abbastanza buoni perché comunque non ricevono chi mi si lamentava del segnale chi si lamentava comunque di un'incompatibilità chi non riusciva a connettersi chi si la connessione si disconnetteva quindi ho detto io è meglio evitare il problema spendere soldi e non risolvere poi la situazione come ovviate il problema quindi come ad esempio nel caso in cui vi trovate nella mia stessa situazione come potete fare per poter risolvere questo problema ed evitare anche di comprare eventuali ricevitori è quello di sfruttare il vecchio modem quindi il mio D-Link che comunque con il mio D-Link si connette tranquillamente cosa ho fatto ho pensato di configurarlo come un access point quindi sono andato a riciclare tra virgolette il mio dispositivo perché comunque sarebbe stato accantonato da qualche parte e quindi l'ho configurato come un access point successivamente dopo averlo configurato l'ho connesso con un cavo di rete in una delle porte LAN del mio Team Hub Plus e praticamente sono riuscito tranquillamente a connettermi con il mio portatile quindi ho risolto il problema dell'incompatibilità delle frequenze erogate dal Team Hub Plus e quindi riuscire a connettermi tranquillamente con il mio pc poi siccome in questo caso avrei avuto una connessione a 2,4 una connessione a 5 gigaers e facendo questa configurazione ho un ulteriore sotto rete quindi qui ci sarebbe ad esempio un altro seed con un'altra password cosa ho fatto? ho disabilitato del tutto le frequenze del Team Hub Plus lui mi gestisce soltanto la rete cablata quindi ho collegato qualcosa in rete cablata e la parte relativa al wifi la faccio gestire al mio vecchio modem router perché comunque non è o comunque tanto vecchio ha un pochino di anni ma ancora è perfettamente funzionante quindi all'interno della mia casa ho risolto il problema disattivando il wifi del Team Hub Plus avrei potuto anche lasciarlo ma non ha senso avere tante rete all'interno della casa perché comunque poi a questo punto gestisco tutto il wifi con il singolo dispositivo che ripeto configurato come un access point per la configurazione di questo dispositivo vi farò vedere come poterlo fare in un video successivo quindi fatta questa configurazione l'ho collegata nella mia nel mio Team Hub Plus e adesso funziona tutto perfettamente quindi magari questa potrebbe essere un'idea per poter risolvere le incompatibilità che potreste trovare con vecchi dispositivi all'interno della vostra rete vabbè comunque andiamo avanti quindi facciamo un riepilogo pro e contro quindi i pro del Team Hub Plus per quanto mi riguarda sempre parere personale ovviamente quella che parlo per la mia esperienza è quello che penso io quindi vabbè un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi che pur utilizzando il mio vecchio modem magari non ho la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità del mio Team Hub Plus però comunque riesco a navigare molto molto più veloce rispetto a prima perché ho una larghezza di banda data dal mio Team Hub Plus molto più grande quindi comunque riesco ad avere una velocità molto più ampia rispetto a prima pur avendo comunque mantenuto il mio vecchio modem router quindi riepilogando dicevo ha una maggiore larghezza di banda ovviamente perché essendo pur essendo un misto fibra rame comunque una larghezza di banda molto più grande rispetto a prima infatti riesco adesso a caricare un video che prima ci mettevo tre ore a volte quattro ore in cinque dieci quindici minuti certe volte quindi ho migliorato davvero il fatto di passare una fibra ad avere un modem di nuova generazione mi ha portato ad avere un incremento della banda quindi ho comunque un modem predisposto per potenzialità future della mia connessione internet quindi un modem di nuova generazione migliore qualità del segnale ovviamente ripeto questa è teorica perché ho riscontrato dal punto di vista del wifi purtroppo ho riscontrato queste problematiche non ho notato questo segnale così potente perché vi ripeto il 5 gigahertz ha problemi di penetrazione all'interno dei muri quindi comunque orientativamente da quel punto di vista non avevo ottimizzato più di tanto vabbè la possibilità di avere più bande wifi come vi ho detto prima si può sdoppiare togliendo la configurazione band steering si hanno delle reti distinte in 2,4 e 5 gigahertz poi la possibilità di inserire memoria di massa tipo harddisk o pendrive al modem e metterle in rete quindi come avete visto vi ho fatto vedere ci sono due porti usb in quelle due porte è possibile inserire delle pendrive o comunque degli harddisk e poter praticamente condividere in rete locale tutto quello che è contenuto in quegli harddisk quindi come se io mettessi in rete e posso accedere alla mia pennetta o alla mia harddisk in rete quindi mi permette di espandere la rete quindi fare una come se fosse un NAS non è così però mi permette questa cosa qui questa potenzialità e poi vabbè il sistema WPS per l'autenticazione veloce via wifi di nuove periferiche ovviamente ci sono anche i contro ovviamente le ho riscontrate soprattutto sulla linea tradizionale quindi la linea tradizionale non è più compatibile e non più funzionante ovviamente si possono collegare solo due telefoni e vanno connessi tra il modem quindi se io volesse ad esempio espandere la mia rete diciamo telefonica all'interno della casa non so se posso fare il parallelo tra due spine quindi tra due telefoni e non so se riesce a gestirle questo nell'ipotesi che non si può fare posso solo collegare due apparecchi però questa situazione è da testare poi se il modem è spento non funziona la linea fissa quindi deve essere sempre acceso questa cosa mi dà un po' fastidio in me però purtroppo è così quindi si ha ovviamente perché mi dà fastidio perché si ha un maggiore spreco di corrente per il fatto di avere il modem sempre acceso e come vi dicevo prima tenere un dispositivo elettronico sempre acceso porta ad una usura nel tempo diciamo molto più celere cioè si arriva ad avere la distruzione del dispositivo molto prima poi cosa devo fare per ovviare il problema di non avere eventualmente la rete telefonica durante un guasto magari un temporale se ne va la luce mi serve urgente il telefono quindi in assenza di corrente devo comunque avere o comunque acquistare un UPS quindi rendere autonomo per un determinato periodo con un UPS il mio modo il mio modo tale da tenerlo acceso quindi un'ulteriore spesa in più poi problema ancora più importante che ho riscontrato io l'incompatibilità del wifi con periferico un po' datate tipo i vecchi PC pur essendo a doppia banda loro lo pubblicizzano come vi dicevo prima di maggiore incompatibilità con tutti i dispositivi ma in realtà in soldoni io purtroppo ho dovuto fare quella configurazione dell'access point dell'access point per potermi praticamente connettere a internet dal mio PC principale quindi per me questa è stata una problematica però magari potreste non riscontrare voi questo problema perché magari un computer più recente o comunque già cambiando il canale oppure cambiando la frequenza o aggiornando magari il driver all'interno del vostro computer riuscirete a risolvere però purtroppo io non ci sono riuscito quindi ho dovuto risolvere come vi ho spiegato prima allora detto questo vedremo adesso un attimino qualche configurazione del nostro modem quindi entreremo nelle impostazioni come si entra nelle impostazioni molto semplice lo saprete benissimo come qualsiasi modem normale tramite un browser cliccando su 192 nella barra degli indirizzi cliccando 192 168 punto 1 punto 1 oppure scrivendo https 2.0 punto 1 slash slash modem team praticamente vi troverete in questa situazione qua di accesso alle impostazioni del vostro team app plus per entrare praticamente dovete inserire qui nel login mettere admin ovviamente come primo accesso poi magari potete successivamente cambiare queste impostazioni qua ma come primo accesso scrivete admin e qui nella password dovete praticamente inserire un codice che è presente nell'etichetta nella parte retrostante al modem praticamente la password da inserire è qua non chiave wifi ma bensì dovete inserire questa la password che è presente in questa zona qua allora una cosa che mi è successa qui che mi è costata un'assistenza tecnica che ho dovuto pagare con team è stato il fatto di stare attenti alle maiuscole e alle minuscole praticamente cosa mi è successo non riuscivo per nulla ad entrare mettevo questa benedetta password che avevo trovato qua avevo provato anche questa ho provato questa ma non riuscivo per nulla ad entrare ho detto c'è qualche bug qualche cosa che non mi fa entrare purtroppo stupidamente facevo un errore io di non aver riconosciuto una k una benedetta k mi ha fatto spendere l'assistenza comunque purtroppo vi dico di stare attenti perché ad esempio io c'ero nel mio codice qui nella mia password c'era una k che a me sembrava apparentemente maiuscola quindi io andavo sempre a mettere quel codice password con quella k maiuscola in realtà era minuscola questo non mi faceva per nulla entrare chiamando l'assistenza mi ha detto vedi che per esperienza molto probabilmente non c'è qualche lettera che la stai mettendo in modo sbagliato quindi mi ha detto dimmi la password c'è la k prova a cambiarla quindi state attenti con la lettera ed è entrato immediatamente purtroppo stupidamente ho sbagliato l'errore mio però è un problema che potrebbe succedere perché io non sarei mai andato a cambiare quella lettera lì quindi ho dovuto accedere alla richiesta di assistenza quindi questa è la password wifi questo è il vostro sit iniziale la chiave di rete wifi questa qui praticamente questa è quella relativa all'accesso come vedete è certificato wifi 6 ora andiamo a vedere qualche impostazione dal browser quindi passiamo ad accedere al browser allora eccoci qui come potete vedere sia mettendo 192.168.1.1 all'interno del browser io in questo caso sto utilizzando chrome la potete utilizzare qualsiasi browser che volete sia mettendo l'ip e sia mettendo https modem team qui nella barra andrete praticamente nella stessa nella stessa praticamente nella stessa pagina di accesso comunque noi lasciamo ad esempio 192.168.1 qui mettiamo admin e qui mettiamo la password che era presente a primo accesso dietro quell'etichetta oppure la password si è stata cambiata quindi io vado ad inserire quella che ho cambiato se me la ricordo sempre allora messa la password clicchiamo su registrati e lui dovrebbe entrare nella configurazione del nostro modem allora quello che vi troverete è questa schermata qua dove ci sono tutte le impostazioni relative al modem queste impostazioni si possono vedere dallo smartphone anche però non potete accedere a tutte le impostazioni quindi per poterlo gestire nella sua totalità dovete entrare per mezzo del browser qui vabbè vi scegliete la lingua è possibile italiano ed inglese qui invece potete cambiare in impostazione profilo l'accesso che avete visto prima allora come potete vedere qui ci sono molte impostazioni quelle che di solito andrete a toccare sono prima di tutto queste qua relativi al wifi comunque ne vediamo qualcuna velocemente allora cliccando su gateway qua ci fa vedere diciamo tutte quelle informazioni relative al al dispositivo infatti qui time management ci dice qua cliccando qua ci fa vedere più informazioni la configurazione informazioni globali ci fa vedere le informazioni relative al team hub plus poi banda larga vediamo qua qui ci fa vedere lo stato della nostra connessione stato dsl ok abilitato da quando è attivo che tipologia di dsl che modalità è che modalità è il segnale i dati di disferimento vediamo se ci sono altre importazioni ecco qua allora vediamo una configurazione che di solito è più importante la sezione la sezione wifi allora come vi dicevo prima è possibile gestire praticamente la rete wifi come se fossero un'unica rete oppure suddividere le frequenze quindi avere una rete 2,4 allora chiudiamo un attimo che vi faccio vedere come vedete qui il il team hub plus permette di avere addirittura 4 reti una rete a 2,4 perché attualmente le ho suddivise una rete a 2,4 gigahertz una rete a 5 gigahertz poi ci sono queste rete ospiti che praticamente cosa sono sono delle sottoreti sia in 2,4 che in 5 gigahertz che praticamente sono ad esempio ipotizzate di avere un bar un'attività un qualcosa oppure all'interno della casa avete degli ospiti e volete comunque condividere con loro la connessione internet voi potete dare le impostazioni di questa rete qui e quindi essendo più sicura perché pur connettendosi non permette a chi si è connesso di entrare all'interno della rete quindi non riesce a visualizzare praticamente cosa ci sta all'interno della rete perché praticamente permette solo l'accesso ad internet quindi siete protetti da questo punto di vista quindi se voi nel caso in cui avreste dato invece questa qua sarebbe potuto qualcuno entrare anche all'interno della rete interna locale invece se utilizzate le reti ospiti quindi configurando il seed ad esempio qui il seed è ancora ospiti team come era prima e l'ho lasciato così loro vedranno questa rete metterete una password per la rete ospiti e loro si connetteranno con quella rete lì e quindi eviterete di far entrare all'interno di controllare eventualmente cosa ci sta all'interno della rete locale quindi come vedete permette di smistare più reti c'è una rete a 2,4 una sottorete ospiti a 2,4 e via dicendo anche 5G entriamo nelle impostazioni allora come potete vedere qui c'è la sezione relativa al 2,4 e al 5G quindi questa qui è la rete relativa a quella principale a 2,4 GHz per attivarla facciamo mostre più impostazioni vabbè attualmente le ho disabilitate come vi dicevo prima perché praticamente ora gestisco il wifi con l'access point che ho configurato quindi a me il wifi del T-Map Plus non serve però io sono entrato per farvi vedere delle impostazioni per poterlo attivare praticamente bisogna andare qui bisogna accenderlo quindi attivato attualmente è off qua ci sono le configurazioni qua potete scegliere lo standard io essendo il 2,4 ovviamente vi conviene lasciare 800.2.11 BGN se voi mettete la X probabilmente è inutile non serve perché i dispositivi del 2,4 non saranno visti magari chi ha un vecchio pc con solo questa tecnologia 2,4 GHz basta e avanza quindi vi consiglio ovviamente per la 2,4 lo standard BGN il canale allora quello che ho fatto prima di disattivare il tutto perché non riuscivo a farlo connettere questo beneretto computer portatile che uso avevo cambiato i vari canali quindi ho trovato anche un'app per fare la scansione dei canali e vedere se c'erano ad esempio dei disturbi di altre reti che magari dei vicini e quindi vedere i canali e le sovrapposizioni dei canali delle reti wifi presenti e quindi la 2,4 GHz permette di avere il canale da 1 a 13 potreste mettere auto però non lo so questo inizialmente se non avete problemi lasciate impostazione auto quindi gestire a lui i canali però nel caso in cui riscontrate ad esempio una bassa velocità disconnessioni potrebbero esserci interferenze all'interno della rete o comunque nelle vicinanze con sovrapposizione di altre rete wifi quindi magari andate e cambiate il canale intanto che magari trovate riscontrate il problema che si è stato risolto ho cambiato anche la frequenza quindi da 20 MHz l'ho messa a 20-40 ho davvero cambiato tutte queste impostazioni ma purtroppo il mio computer non riesce a rilevarle poi ovviamente per accenderlo come vi dicevo prima dovete qui cliccare nella sezione access point su on lui si attiverà qui è il seed ovvero quello che noi vedremo come rete e ad esempio qui ho messo adesso l'ho messo così xxx 2,4 in modo tale da capire e rilevare che mi sto connettendo con la 2,4 gigahertz la crittografia un minimo di vpa2 psk questo è il minimo che si può mettere potete mettere anche altri però almeno un vpa2 qui metterete la password che io ad esempio ho impostato 1,2,3 fino a 9 e quindi voi in questo caso vedrete vabbè qui vps è attivato quindi riuscirà se hai impostato questa configurazione quando premerete il tastino sul modem a far connettere automaticamente i dispositivi senza accedere con password perché la vps la state abilitando ecco qua band steering abilitato allora se noi abilitiamo il band steering questa impostazione qua dovremo praticamente attivarlo sia nella sezione 2,4 e sia sulla sezione 5 GHz mantenere lo stesso seed per entrambi le reti mantenere la stessa password e ovviamente attivare l'access point anche nella sezione 5 GHz e quindi sarà il modem a decidere in funzione di dove vi troverete qual è la banda migliore per trasmettere il segnale io in questo caso l'avevo disabilitata per provare a dividere le due reti quindi ho disabilitato il band steering ma nel caso in cui avete questa impostazione mi sembra di default è attivata quindi di default vedrete solo una rete per distinguere le cose dovete disattivare il band steering quindi qua ad esempio impostate la 2,4 poi vabbè ritorniamo nelle impostazioni come vedete la sezione ospiti è un'altra sotto rete e ci permette di effettuare altre configurazioni qui ad esempio l'ho dovuta anche disabilitare qui mettete il seed relativo la password questi qua sono i dati che magari gli utenti ospiti vedranno e quindi si potranno connettere senza la possibilità di accedere alla rete locale quindi tutto quello che è sotto la rete locale non verrà visto ed è il caso ripeto di chi ha un'attività magari ha un bar vuole permettere la connessione ai suoi clienti e magari senza che permettere di entrare e vedere altre impostazioni quindi anche qua potete impostare tutte le frequenze ripeto ritorniamo qui un attimo perché giusto per farvi vedere anche nella sezione 5G è la stessa cosa e che nel caso in cui al primo accesso se non erro è configurato il bed steering e quindi qui ad esempio lo troverete in on quindi basta configurare anche la sottorete in 5 GHz diciamo che quello che toccherete di più sicuramente sarà questa sezione qua poi un'altra cosa che si può fare in questa sezione del wireless è il wireless control ovvero potete scegliere ad esempio io prima di notte spegnevo il modem sia per praticamente ovviare al fatto di risparmiare energia evitare l'usura del dispositivo e nel fatto di non volere onde radio quindi lo disabilitavo per mezzo di un orologio a questo punto con questo modem non è possibile farlo perché comunque io o disattivo manualmente il wifi ogni sera oppure non posso spegnere il modem per il fatto che ho i telefoni collegati quindi quello che c'era da fare ad esempio se avessi utilizzato il wifi del team hub plus e quindi avessi voluto togliere il wifi di notte ad esempio perché io il wireless di notte non lo voglio non voglio onde radio durante la notte è il creare una schedulazione quindi un controllo di un wifi del wifi quindi l'accensione e lo spegnimento quindi si fa aggiungi una nuova regola cliccando qua praticamente potete settare ad esempio l'attivazione e la disattivazione del wifi in automatico quindi sarà lui a gestire in funzione di quello che voi vorrete l'attivazione lo spegnimento i giorni a settimana e tutto il resto quindi ad esempio se io dico di accendere il modem quindi impostazione on accensione alle che ne so io ad esempio prima lo accendevo alle 9 con il mio vecchio modem quindi dico di accenderlo anti meridian alle 9 e di spegnerlo a mezzanotte di quali giorni ad esempio tutta la settimana quindi qua mi vado a impostare questa impostazione qua faccio salva e lui ha praticamente impostato che il wifi dalle 9 alle 23 quindi dalla mattina alle 9 lui accende il wifi pur avendolo disattivato manualmente lui andrà praticamente sempre ad attivare il wifi in questo range di tempo ad esempio posso aggiungerne un'altra posso impostare magari un'altra impostazione posso mettere l'off posso fare qualsiasi cosa ad esempio posso mettere il fine settimana impostarlo diversamente un orario diverso posso fare il controllo dell'accensione automatica del wifi ad esempio però adesso la vado a rimuovere perché se no si accenderà il wifi vediamo se dovrebbe essere no come vedete probabilmente si sarà acceso perché è impostata questa impostazione però non lo rileva quindi la andiamo a disattivare quindi wireless control la eliminata se non volete più questa impostazione basta tranquillamente eliminarla e lui rimuove tutte le impostazioni in automatico poi cosa possiamo vedere ad esempio qui c'è il firewall potete impostare il firewall come volete voi un livello medio un livello basso e quindi ad esempio livello medio vi specifica consentirà ogni connessione in uscita rifiuterà connessione in entrate vi dicendo io ad esempio ce l'ho in medio e lo salvo lo lascio una modalità intermedia poi cosa potrebbe interessarvi anche qua vi fa vedere i dispositivi connessi come vedete mi dice wifi zero perché il wifi in realtà ci sono connessi smartphone adesso perché il mio access point scusate il mio access point lo vede come un dispositivo di rete cablata quindi non è wifi io sono connesso con il wifi però in realtà lo vede come un dispositivo di rete infatti ci sono presenti tre dispositivi di rete connessi non c'è nessuna periferica usb connessa e praticamente fa una panoramica dei dispositivi connessi poi vediamo cosa potrebbe interessarci qua c'è l'impostazione della rete locale quindi qua andrete a settare ad esempio l'indirizzo IP il server di HCP e quindi le impostazioni di rete locale qua un'impostazione anche dell'access point possiamo entrare qui e cambiare ad esempio l'IP qua sono le configurazioni di rete locale poi vediamo cosa potrebbe interessarci allora qui rete mobile praticamente cosa mi permette di fare questa offerta che ho io posso connettere un mio dispositivo mobile e chiamare gratis configurandolo con il modem quindi io chiamo e non pago ad esempio perché configuro un dispositivo nella rete mobile in questo caso non l'ho fatto però permette di fare questa cosa qua quindi come se utilizzassi lo smartphone come se fosse su rete fissa perché l'offerta prevede chiamate illimitate verso fisse verso mobile quindi posso sfruttare lo smartphone con la rete praticamente di casa quindi non pagare come se avessi una tariffa sul telefono poi qua ad esempio evidenzia le connessioni di rete la rete i dispositivi che sono connessi il trasferimento di dati che è avvenuto su quella porta porta 1 porta 2 sull'u wifi e via dicendo poi vediamo cosa potrebbe interesserci più vabbè qui dispositivi associati non ce ne sono il parental control qui probabilmente qui potete accedere diciamo potete impostare il fatto di aggiungere dei filtri quindi magari siti internet o comunque chiudere delle porte probabilmente quindi qua magari poi lo vedremo in futuro però ripeto qua è per impostare un controllo della rete quindi il parental control poi cosa ci c'è allora poi possiamo vedere questa impostazione qua qui praticamente nel momento in cui i dispositivi condivisi come avete visto c'è la possibilità di inserire una pennetta o un hard disk per utilizzarli allora bisogna io comunque ho lasciato le impostazioni di default però bisogna attivare samba samba file sharing poi vabbè probabilmente questa se l'ha presa lui work group la rete locale quindi si accede alla rete locale interfaccia di navigazione lan quindi dove veicola i dati praticamente da dove vengono trasferiti nel momento in cui inserisco la pennetta in quel caso lì quindi poi nel momento in cui inserirete una pennetta adesso lo vado a fare così lo vedete comparirà qui il mio dispositivo quindi io posso praticamente interfacciarlo poi nella rete locale quindi posso prelevare i dati dalla rete locale allora adesso vado a collegare una pennetta usb e vedremo subito come impostarlo e cosa fare per entrare all'interno della pennetta usb allora sono andato al modem e ho inserito una pennetta a questo punto ancora non rileva nulla facciamo aggiorna i dati come vedete praticamente lui mi ha rilevato la mia pennetta che è collegata alla porta usb del modem io adesso allora come faccio ad accedere a questi dati dal modem si può fare in un modo o comunque in due modi l'importante è copiare questo indirizzo qua lo selezioniamo facciamo copia come possiamo fare allora ovviamente possiamo farlo tramite browser quindi andiamo inseriamo il link che era presente e ci fa entrare all'interno della pennetta come vedete io qui ho messo dei file così ad esempio qui ho inserito prima file di prova come vedete è un file txt e me lo apre nel caso in cui non riuscisse ad aprirlo vi fa praticamente scaricarlo però come vedete non è molto agevole questa situazione qua c'è un modo diverso per poterlo fare ad esempio per averlo sempre a portata di mano è un modo che mi è venuto in mente ipotizziamo in questa cartella voglio praticamente poter accedere avere un collegamento quindi cosa possiamo fare possiamo creare un collegamento che punta a quell'indirizzo la quindi ad esempio potremmo essere sul desktop potremmo essere in una cartella ipotizziamo che io in questa cartella voglio il collegamento per quei dati là che sono presenti nella pennetta quindi faccio col tasto destro in un punto vuoto dello schermo apro il menu clicco e faccio nuovo nuovo collegamento ovviamente lui mi dice immettere il percorso del collegamento prima abbiamo copiato questo indirizzo qua cosa facciamo lo incolliamo e andiamo avanti qua possiamo dare il nome ad esempio qua diamo pennetta team hub così ci rendiamo subito conto di cosa si tratta a questo punto facciamo fine dovremmo praticamente in questo caso riuscire ad accedere direttamente tutti i dati all'interno della pennetta che è collegata al nostro team hub plus quindi l'abbiamo messo praticamente in rete abbiamo creato un collegamento di nome pennetta team hub plus cliccandoci come vedete io accedo tranquillamente alla pennetta che è presente all'interno del mio team hub plus posso ad esempio praticamente fare delle modifiche ciao ciao salvarle e come se fosse un nas alla fine tra virgolette prendetelo con le pinze quindi ad esempio in rete posso mettere un hard disk e lavorare in sincronia con altri utenti all'interno della mia rete locale quindi potrei ad esempio avere un nipote uno zio un parente comunque tutti quelli che accedono alla rete locale possono andare e prelevare i dati per mezzo di questo collegamento che punta alla usb collegata dietro il modem e quindi riuscire ad accedere ai dati ovviamente è una cosa in più che si fa ovviamente si può accedere anche tra computer e computer però quelli lì magari sono sempre disponibili perché comunque sono sempre connessi dietro al modem accessibili a tutti perché essendo anche sempre acceso tranquillamente possiamo accedere in qualsiasi momento senza magari poi magari accendere un computer all'interno della rete magari è spento non riesco ad accedere ad un dato perché il computer è spento questa configurazione e qua mi permette di avere dei dati sempre disponibili e condivisi in rete ovviamente il modem è sempre acceso quindi chiunque si connetta alla rete locale e ha impostato questo collegamento riesce tranquillamente a lavorare ad esempio a creare un altro file che ne so un file word lavorarci e condividerlo all'interno all'interno di questa rete qua io posso tranquillamente lavorarci ed entrare in qualsiasi momento come vedete è una funzionalità in più che permette questo team map plus quindi ricordate di prelevare l'indirizzo creare quel collegamento oppure accedere in questo caso qua ad esempio ho creato poco fa un altro file aggiorno la pagina come vedete si aggiorna anche la lista dei file all'interno della pennetta altre impostazioni altre impostazioni che potremmo vedere ad esempio poi ovviamente una cosa fondamentale se volete rimuovere la pennetta fate espelli quindi io chiudo la pagina faccio espelli è come se fosse una normale rimozione di una penna usb all'interno di un computer come vedete adesso il dispositivo non è connesso chiudiamo questa impostazione che dire altre altre situazioni non saprei perché comunque poi si entra troppo nei tecnicismo magari cose particolari qui server servizi one allora qui probabilmente c'è il port mapping e il dns e il din dns praticamente queste cose potrebbero servire quando si vuole accedere ad esempio a periferica all'interno della rete locale quindi interfacciare il mondo di internet esterno alla rete locale con il nostro hub oppure dare un permettere 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 di aprire delle porte specifiche per determinate impostazioni oppure accedere da remoto al team hub plus impostando un dns che punta al nostro indirizzo ip e quindi pur essendo dinamico riesce a permetterci di fare un accesso remoto e ad accedere al team hub plus quindi probabilmente questa sezione qui è relativa a queste impostazioni qua quindi aprire chiudere porte e via dicendo però non entriamo nei dettagli di queste impostazioni qua che dire ho fatto una panoramica delle problematiche di come è installato di tutto quello che troverete più o meno ho cercato di fare una panoramica di tutto e dirvi le impostazioni generali e le problematiche che potrete riscontrare installando questo dispositivo qua che dire spero che il video vi sia stato utile lo so è stato un pochino lungo però ho dovuto fare una panoramica generale se il video vi è piaciuto mettete un like se avete delle domande da fare scrivetelo nei commenti che proverò a rispondere nel caso siano nelle mie competenze e alla prossima grazie